L'antenna installata a Paiari di Sassa non sarà rimossa, lo ha deciso il TAR respincendo il ricorso presentato da un residente, Domenico Placidi. Nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale si chiedeva di annullare il provvedimento che ha disposto l'installazione di antenne per telefonia mobile nelle vicinanze del progetto case della frazione di Paiari, un ricorso giudicato e ricevibile dal TAR. Il ricorrente, che si avvalso dell'intervento ad vanium del Comitato Locale contro l'antenna, è proprietario di due fabbricati, siti nella zona in questione. L'uomo ha verificato che nel luglio scorso, a 100 metri di distanza dagli stabili, era stato insediato il cantiere. In seguito ha preso che i lavori erano stati eseguiti con un provvedimento del 30 febbraio del 2017, attraverso il quale un dirigente comunale, in considerazione dei pareri favorevoli, aveva dato l'ok al progetto, che prevedeva la realizzazione di una stazione radiobase per la telefonia mobile, progetto presentato da Vodafone, Wind, Telecom e H3G. Si sono quindi costituiti il Comune, tramite il legale Antonio Orsini, il Ministero per i beni culturali, l'arte e le aziende, chiedendo la bocciatura del ricorso. Si legge nella motivazione del TAR, il ricorso risulta promosso contro i seguenti atti, la delibera del dicembre 2016, nella quale la Giunta Municipale ha approvato il programma annuale della telefonia mobile. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata il 23 gennaio del 2017 dal Comune dell'Aquila e l'autorizzazione conclusiva del 3 febbraio 2017 pubblicata sull'albo pretorio. Pertanto, essendo stati i provvedimenti pubblicati sull'albo pretorio online, non può che rilevarsi la tardività, in cui è in corso il ricorrente, il quale, fin da tale pubblicazione, era stato posto nelle condizioni di conoscere la portata eventualmente lesiva, si legge, degli stessi e di promuovere l'impugnativa. Si osserva inoltre che la suddetta antenna andava a sostituire un impianto provvisorio già esistente autorizzato dal 2009.